Il 21 maggio del 1904, presso gli uffici dell'Unione delle Società Francesi di Sport Atletici e in presenza dei rappresentanti di sette nazioni europee, nasce la FIFA. La Germania si unirà all'associazione il giorno successivo, mentre l'Italia solo nel 1905. Diverso fu il discorso invece per gli inglesi, i quali derirono solamente nel 1908 e non senza polemiche, dato che uno degli obiettivi a base della nascita dell'associazione era proprio la limitazione dello strapotere inglese. Sempre nel 1908 venne organizzato il primo trofeo targato FIFA, quello interno ai giochi olimpici di Londra.